Bravo Pietro! Passino, passino! Passino, 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 passino! Passino, passino, passino! Passino, passino, passino! Passino, passino, passino! Sì, 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 sì. Dopo devo fermarmi i semafori, amori. Vende gli apparecchi acustici. Porco cane, sempre con l'ala lì! Cavolo! Guarda. Chiara. Guarda. Grazie. 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 Bravo, Alessandro. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Tranquilli. Tranquilli. Grazie. 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 Vai, vai, vai. Tranquilli, dai. Grazie. 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 Vai ancora, vai! Vai ancora, vai! Ma da rigore, eh? Sì, 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 della tassi, della tassi. Vai, vai! Non ci serve, non ci serve, è il tuo aiuto! No! È il tuo cuore! Oh, perché non è buona? E' stessi daaraschiamo, non ci serve. No, non so se si! No, non so se si! eccolo vai dai cosa? cosa? mamma mia il mamma che ti trombi ti no vai a ricordere? e quindi se mi mette le subite le regole si fa le regole sei in calcio? dai roverezzo grazie 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 grazie